Da un lato la formazione ha la sicurezza, soprattutto nelle giovani generazioni, col progetto Sicuri in Azienda rivolto gratuitamente agli studenti delle scuole superiori. Dall'altro la tutela dei diritti degli infortunati, con numerosi servizi come caffè patronato. Con questi due caposaldi, la sezione territoriale di Sondrio dell'Anmi, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, riafferma l'impegno per il prossimo quinquennio, col rinnovato consiglio che ha confermato alla Presidenza Emilio Giacomelli. Ho un unico rammarico, dieci anni di lavoro non sono ancora riuscito a sfondare nel tesseramento. Speriamo di riuscire a far capire a tutti gli invalidi che l'importanza di aderire a un'associazione sta appunto nella rivendicazione dei propri diritti. Se non riusciamo a sostenere queste associazioni, pian piano potremmo arrivare a perderli. E quindi speriamo che con i new entry, le nuove entrate, riusciamo ad incentivare un po' di più questa cosa. Come sta procedendo il lavoro nelle scuole? Si raccolgono i frutti? Assolutamente sì. Oggi, questa mattina sono stato al Pinchetti. Interessante, entusiasmante tutte le volte che si va con i ragazzi, è veramente bello. Certo, è importante riuscire a fare formazione. Tutti si riempiono la bocca di formazione. Ritengo che a noi tutto si possa recriminare, forse non abbiamo messo in campo i fatti e non le parole. Una persona che ha subito un infortunio sul lavoro, di cosa ha bisogno soprattutto da parte della società? Ha bisogno di comprensione, ha bisogno di aiuto. Una persona che ha subito un infortunio, bisogna comprendere che deve riprogrammare tutta la sua vita, uno stravolgimento completo della propria vita. Lui e i suoi familiari, quindi hanno bisogno assolutamente di assistenza, di sostegno psicologico, di aiuto, di vicinanza. Devono però approcciarsi anche loro a noi. Noi non riusciamo a raggiungerli se non sono loro a cercarci. Quindi assolutamente noi siamo disponibili e pronti ad aiutare tutti, assicurando che non riusciamo a fare miracoli. Però chi meglio ti può capire se non chi ci è già passato. Giacomelli ringrazia i consiglieri uscenti Andrea Trameri, Moreno Gurini, Colomba Parolini e Luca Chino Maraffio. Saluta i confermati Enzo Caligari, Leonardo Scaramella e Riccardo Moreschi e dà il benvenuto ai nuovi Gelindo Bongini, Vicepresidente Marco Ferrari e Massimo Ganassa. A loro auguro un bene entrati, un buon lavoro e mi auguro che riescano ad avere tante soddisfazioni quante ne ho avute io.